Bentornati a Unci.tv, fare capire le imprese cooperative, lo speciale televisivo dedicato tutto a Unci Marche. Siamo giunti alla decima puntata interamente dedicata alla cooperativa Alemar. Movimondo, agenzia di viaggi della cooperativa Alemar, offre i prodotti turistici dei migliori tour operator presenti in Italia e nel mondo. Vediamo il servizio. L'agenzia Movimondo apre i suoi battenti l'8 aprile 2000. È nata dall'incontro di diverse esperienze e competenze come quelle di Maglio, Emanuele e Roberta. L'amore per i viaggi è il loro punto di forza. La cooperativa Alemar nasce nel 2000 e si occupa di viaggi, siamo un'agenzia di viaggi, siamo il marchio Movimondo e tramite questo marchio abbiamo appunto creato questa agenzia di viaggi. Nasce dall'esigenza di dare un lavoro a tre soci all'inizio e poi nel tempo questa realtà è cresciuta e ha dato modo anche ad altre persone di lavorare con noi, quindi attualmente siamo in cinque, tre soci di lavoratori più due dipendenti. Il principale settore dell'agenzia è l'individuale. Vengono forniti servizi singoli come la biglietteria aerea, navale e ferroviaria e invio di valuta all'estero sino a viaggi più complessi come i tour, i viaggi di nozze e le crociere. Altro settore sono i viaggi di gruppo, soprattutto viaggi per il turismo scolastico e corsi di lingua. Oggi siamo in grado di offrire una vastità di servizi di viaggio per tutte le esigenze, addirittura ci siamo sempre più specializzando anche come tour operator, quindi non più una semplice agenzia di viaggi, bensì proprio un creatore di pacchetti turistici e dei consulenti a 360 gradi di qualsiasi forma di viaggio. Arriviamo ad avere direttamente i fornitori sulle varie località dove i nostri clienti vogliono andare e pertanto a offrire proprio un servizio mirato e non dei semplici rivenditori di un prodotto o di altri, ma venditori di un prodotto creato da noi. Le scelte dei clienti sono seguite con disponibilità e serietà, cercando di fornire il prodotto migliore per ogni specifico target. Alla nostra agenzia si rivolgono diversi target, abbiamo al di là del target classico dei giovani con cui abbiamo iniziato, con cui abbiamo sempre avuto un rapporto privilegiato anche perché fin dall'inizio abbiamo aderito al CTS e siamo stati un CTS point, quindi molto focalizzato sui giovani. Piano piano abbiamo avuto un'evoluzione e attualmente serviamo una grande fetta di mercato anche di alto livello, quindi con pratiche importanti dai viaggi di nozze che sono comunque sia un viaggio molto costruito e molto importante per i clienti fino ad arrivare anche a viaggi importanti per gruppi e ultimamente siamo focalizzati molto anche su un turismo sociale e ci porta a collaborare con delle associazioni che offrono servizi per persone disabili e siamo riusciti a creare un prodotto ad hoc anche per loro e quindi siamo un po' focalizzati su tanti tipi di target e ognuno di noi in agenzia si occupa di uno specifico segmento di target. Al fine di soddisfare tutte le esigenze dei clienti il personale dello staff è alla costante ricerca di nuovi contatti tramite la partecipazione ai maggiori workshop e fiere che si organizzano in Europa. Questa continua ricerca ha permesso all'agenzia Movimondo di certificare la qualità dei servizi offerti e stringere relazioni anche con tour operator minori specializzati in piccole aree geografiche che permettono di proporre viaggi al di fuori degli itinerari più classici. Sicuramente quest'anno c'è stata una forte richiesta sul prodotto Stati Uniti, un po' per di vantaggio del dollaro che comunque sia dà l'opportunità di fare vacanze a buoni prezzi e infatti ci viene molto richiesto e abbiamo anche diversi gruppi in lavorazione. Sicuramente l'aspetto viaggi di nozze che è ancora molto vantaggioso in questi periodi riuscire a prenotarlo anche per partenze spostate in là nel tempo in modo da poter prendere i prezzi migliori e per i giovani sicuramente il Mediterraneo con la Grecia e la Spagna quest'anno che la faranno sicuramente da padroni con ottimi prezzi e ottime offerte che la nostra agenzia riesce a offrire. La cooperativa Alemar ha collaborato con l'Unci Marche fin dalla nascita. Vediamo il servizio. La nostra agenzia collabora fin dalla nascita con l'Unci, siamo nati praticamente attraverso di loro, sono loro che ci hanno praticamente aperto le porte al mondo della cooperazione e ci hanno supportato fin dall'inizio attraverso anche la ricerca di finanziamenti che ci hanno portato ad aprire. La cooperativa Alemar ha sin da subito tratto vantaggi dalla collaborazione con l'Unci Marche con il quale ha un rapporto costante. All'inizio sicuramente è stato un vantaggio perché ci ha dato l'opportunità di avere meno costi importanti, costi cosiddetti burocratici o anche di tassazione che ci hanno fatto sì di poter crescere. Attualmente tutto sommato ci troviamo ancora abbastanza bene nel mondo della cooperazione, quindi come cooperativa. Siamo comunque sempre in costante analisi della situazione amministrativa affinché ci sia un buon rapporto tra essere cooperativa e essere comunque un'azienda efficiente. Ci sentiamo spesso per problematiche di natura lavorativa anche perché loro seguono per noi tutta la parte dei dipendenti, quindi l'aspetto della consulenza sul lavoro dei dipendenti e dei soci e quindi c'è un confronto diretto tra il nostro reparto di amministrazione e l'Unci Marche, nello specifico di Macerata. Formacop Marche, ente di formazione della federazione regionale marchigiana Unci, accreditato dalla regione Marche, sta organizzando alcuni corsi di formazione e aggiornamento su tematiche relative all'educazione psicomotoria e psicomotricità destinato alle strutture che operano nell'ambito dei servizi all'infanzia. Tutti i corsi rivolti a occupati, disoccupati e lavoratori autonomi o atipici sono stati riconosciuti dall'amministrazione provinciale di Macerata con disegno di legge 48 del 3 febbraio 2011, quali attività di aggiornamento e sensi delle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale. Provincia di Macerata, voucher aziendali anno 2011. Con disegno di legge numero 122 del 1 aprile 2011 è stato emanato l'avviso pubblico riservato alle imprese operanti nella provincia di Macerata per richiedere l'incentivo a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Le aziende che fossero interessate possono rivolgersi agli uffici Unci Marche oppure formazione chiocciola uncimarche.org. L'UNCI Federazione Regionale Marchigiana ha stipulato un importante accordo in favore delle cooperative aderenti con il FONARCOM, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, formalizzato attraverso la formazione di un documento programmatico per la formazione continua, il quale ha permesso alla scrivente di attivare un direct learning di sistema per la presentazione di progetti formativi. Questo accordo permetterà alle imprese cooperative aderenti di beneficiare senza oneri di carattere economico, salvo quelli previsti per la partecipazione dei soci coimprenditori e dei dipendenti corsi di formazione, a progetti rivolti alla realizzazione di iniziative di formazione continua e di aggiornamento che verranno organizzate per il tramite dell'ente di formazione promosso dall'UNCI Marche. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.uncimarche.org. Ricordiamo che la puntata di Unci.tv sarà presto visibile online sui canali YouTube di E-TV Macerata e sul sito www.uncimarche.org. Unci.tv termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di E-TV! www.uncimarche.org.